Saranno due mesi molto vivaci, quelli di agosto e settembre, nella città di Agropoli, con eventi quasi tutte le sere. Si svolgeranno in una location d'eccezione, il Castello Angioino Aragonese. L'obiettivo dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola è di offrire ai residenti e ai propri ospiti momenti di spensieratezza, con eventi che spaziano dalla musica al teatro, passando per il musical e il varietà. E poi c'è l'appuntamento divenuto ormai tradizione con il settembre culturale. Innanzitutto la scelta che abbiamo fatto era, abbiamo scelto il Castello Angioino Aragonese come centro della location, per due motivi. Il primo perché deve essere il centro motore anche del centro storico, quindi come dire, deve essere un'attrattiva che porterà le persone con la scusa di andare a vedere lo spettacolo, di vivere anche la bellezza dell'altro centro storico, quindi ha questo senso. È una location poi bellissima, quindi renderà tutto più maggio quello che si svolgerà lì al Castello, per cui è chiaro che ci sono dei motivi di polemica anche giusti. Abbiamo presentato il cartellone a fine luglio, quindi è una cosa che normalmente questo si fa e abbiamo sempre fatto, anche negli anni precedenti, in maniera molto anticipata. Ma è chiaro che anche qui la conseguenza della pandemia ci ha portato a fare delle valutazioni più prudenti, sia sullo svolgimento delle attività, perché eravamo a rischio anche addirittura di non poterle svolgere, e sia sul fatto che dovevamo comprendere in che modo realizzare tutto questo. Io credo però che l'importante è che i spettacoli si facciano nel mese di agosto. Abbiamo puntato poi, facendo poche cose a luglio, abbiamo puntato molto su agosto e su settembre, nell'aspettativa e nella certezza che la pandemia non torni in questo periodo, perché noi crediamo molto nell'elemento dei vaccini, quindi per questo motivo abbiamo spostato a settembre molti degli eventi che facevamo ad agosto, e quindi cercheremo di allungare la stagione estiva nel mese di settembre, sperando che questa scelta sia, e ci auguriamo, sia vincente. Abbiamo poi raccolto le richieste delle associazioni locali, con loro abbiamo inviato una collaborazione, per l'altro che abbiamo sempre fatto anche in passato, e con la loro collaborazione abbiamo creato un cartellone che in qualche modo credo possa essere assolutamente soddisfacente per quel che dobbiamo fare. Se tutto andrà bene, però, gli eventi importanti saranno programmati per il Natale, per il prossimo Carnevale, insomma speriamo veramente che uscendo fuori da questo meccanismo di pandemia potremo finalmente ridare spazio ai eventi bellissimi che facciamo in città. Si parte questa sera con Tale e quale Agropoli, spettacolo musicale di canzoni anni 60, 70, 80 e 90 e balli a cura di Terry Dance, sempre all'insegna della musica. È l'appuntamento del 6 agosto ad esibirsi in Sottosole e Napoli, sarà Andre Anonimo, spazio al teatro domenica 8 agosto con l'attore agropolese Umberto Anaclerico che si cimenterà in amorosi omicidi. Appuntamento con la musica popolare il 9 agosto con Taramurria, tour Voci del Sud. Sotto il cielo stellato della notte di San Lorenzo il 10 agosto si esibirà Nicola Napolitano e il trio Incantus. Il 13 agosto andrà in scena il terzo festival del Cilento Movie Orchestra nella serata di Ferragosto. Ci sarà un ritorno molto atteso ad Agropoli dopo le partecipazioni in tv e l'uscita dei nuovi singoli, quello di Michele Pecora. Terrà un concerto nella splendida cornice dell'antico maniero durante il quale riproporrà brani vecchi e nuovi del suo repertorio. L'evento è a pagamento. Violino e Fisarmonica cattureranno gli ospiti il 16 agosto. Ad esibirsi Camelia, Naidenova e Francesco Citera, due maestri che proporranno dal classico al tango. Musiche di Brahms, Sarasate, Vrembrell, Gardel, Galliano, Piazzolla. Torna il teatro mercoledì 18 agosto con Luciano Capurro in una notte a Napoli. Il 19 agosto invece si ricorda un grande artista scomparso alcuni mesi fa, Ennio Morricone, con musiche classiche cover band di Ennio Morricone. L'evento è a pagamento. Risate assicurate poi il 21 agosto con Edoardo Romano, ex dei 3-3, e il suo spettacolo Varietà. Permettete che vi racconti. Il 22 agosto Andrea Anonimo presenterà Lazzari Felici, Pino Daniele, classic, in memoria di Gian Maria Pastore. Lunedì 23 agosto torna ad Agropoli l'attore Gianni Parisi che presenterà lo spettacolo da Ponente a Levante. Spazio al musical. Il 24 agosto ad esibirsi in Mamma Mia la scuola di danza all'Ateneo di Rita Polidoro. Il 26 invece sarà la volta di Nussuon, concerto per chitarra e voce. Il 31 agosto ancora teatro, in scena tutta colpa del coronavirus a cura dell'associazione Camminare Insieme. A settembre due appuntamenti con la musica. Il 5 settembre di scena saranno due grandi della canzone italiana Rossana Casale e Mariella Nava, l'ingresso è a pagamento. Il 10 settembre sarà la volta di Oscar Movie Ensemble, dedicato a Ennio Morricone. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e l'ingresso sarà libero, se non diversamente specificato nel programma.